Io sono una studentessa del liceo artistico Marco Polo di Venezia e quando sono entrata oggi all'estanza del vetro questa mostra mi ha colpito tantissimo soprattutto per i particolari, le tecniche che sono state utilizzate, la qualità che ho potuto notare, mi è piaciuto tantissimo. Ciò che mi ha colpito di più è la tecnica che ho osservato nella volpe, mi ha colpito quello perché sembrava quasi un oggetto di argento la forma e in generale proprio le forme perché si è liberata la fantasia, questo ho potuto notare, la fantasia anche nella forma stessa degli animali, alcuni non avevano sicuramente la forma che noi conosciamo e anche i colori, la fantasia in questa e proprio lo studio dei particolari e dei dettagli è stata bellissima e mi è piaciuta tantissimo.